Eiichiro Oda si esprime su una determinata scena del live action di One Piece Dice che è perfetta L'attore che interpreta Rufy dice che il coinvolgimento di Eiichiro Oda nella realizzazione della serie gli ha dato la fiducia necessaria per andare avanti Questo perché l'attore sa che l'autore non gli avrebbe permesso di fare qualcosa di sbagliato L'interprete di Zoro dice che tutto ciò che Oda vuole per la serie è ciò che vogliono i fan Quindi è sicuro che saranno contenti Ci saranno dei cambiamenti ma sono necessari Ma Kenyu dice che loro come attori sono molto felici Oda è come se fosse loro padre La scena perfetta a cui si riferisce Oda è quella di Nami che chiede a Rufy di aiutarla all'interno della saga di Arlong Scena iconica del manga che precede la marcia dei Mugiwara verso Arlong Park Oda dice che la scena è perfetta